Da quattro giorni è scomparsa un adolescente a Favara. Si tratta di Silvia Manganella. La giovanissima è sparita da giorni, non si sa dove, lasciando i familiari in uno stato di profonda angoscia. L'allarme è stato lanciato anche sui social. La figlia, lo scorso primo giugno, è uscita da scuola intorno alle 8.30 e non è più tornata, recita l'allarme. Qualcuno ha segnalato di averla vista nei pressi di via Esachimento. I genitori hanno già denunciato la scomparsa della figlia. Della ragazza sono state fornite anche informazioni sulle caratteristiche fisiche e sull'abbigliamento che indossava l'ultima volta che è stata vista. Ha una corporatura magra ed è alta all'incirca un metro e cinquanta. Il giorno della scomparsa indossava una maglietta grigio chiaro, un paio di jeans di colore blu chiaro e scarpe da ginnastica beige. Avrebbe inoltre portato con sé una felpa bianca e uno zaino di colore rosa. Nella speranza che Silvia torni presto a casa dai suoi genitori preoccupati, chiunque ha visti la ragazza è pregato di allertare polizia o carabinieri.